A me la mostra concorso piace molto, mi stimola molto. Dopo la fila di Sant'Orso invernale credo che sia l'evento dell'artinato di tradizione che più apprezza, è un momento di confronto, è un momento di crescita dell'artigiano, ma non solo dell'artigiano, ma anche dell'intero settore dell'artigianato di tradizione. Mi accorgo che nel momento in cui escono i temi, che la struttura competente rende noti i temi, per un periodo mi ritorno in testa a questo tema e penso a qualcosa che non sia banale, perché ritengo che la mostra concorso si debba partecipare se hai qualcosa da dire, se hai qualcosa che non sia banale, perché altrimenti partecipare per partecipare non è che sia la cosa che preferisco. Mi ha convinto più che altro il freddo che c'è stato in primavera, perché sono andato a recuperare un po' di legna, che avevo finito la legna in una catasta di ceppi di noce che avevo e ce n'erano di quelli piuttosto messi male. Ho trovato questo ceppo, l'ho alzato e era pesantissimo, allora l'ho guardato un po' e ho visto questa roccia che era avvolta dal legno. insomma, da lì ho detto vabbè, il legno era messo piuttosto male, quindi ho detto vabbè, però non l'ho subito sacrificato, non l'ho utilizzato per bruciarlo e l'ho messo da parte, ho detto ci ragiono un attimo in ottica della mostra concorso, anche perché avevo trovato che c'era un po' un'analogia con la mostra, con il tema di quest'anno, perché si parlava di solidarietà e vedevo un po' anche una solidarietà tra quello che erano i due materiali, il sasso che c'era all'interno del tronco e il tronco che aveva a volte protetto questo sasso per tanti anni e ora era un po' il sasso che aveva convinto il sottoscritto a non buttare nel fuoco il tronco, ecco, e quindi una sorta di, se vogliamo, solidarietà fra materiali. Dopodiché era messo abbastanza male il tronco, qualche giorno dopo l'ho ripreso, l'ho pulito per vedere se c'era ancora qualche parte del ceppo che poteva essere utilizzato e così è stato, insomma, dopodiché ho sviluppato la cordata. Non è che avessi, il tronco non mi dava grosse altre possibilità di sviluppare qualcos'altro, ecco. Non c'era molto da preservare, l'ho pulito un po', però allo stesso tempo ho cercato di mantenere, visto che comunque era un tentativo di salire una montagna, di mantenere comunque un'idea di vetta che si andava a conquistare, e cercando di dare maggiore evidenza possibile al sasso, insomma, che era l'elemento più evidente da conservare. Quello che poi mi è piaciuto anche era che più si saliva e più il legno tendeva a diventare marcio, un po' come la montagna, sali e più spesso diventa friabile, ecco. E quindi questo era un po' un richiamo. Il basamento, poi ho dovuto aggiungerci un ulteriore basamento, perché se no il sasso squilibrava la scultura e tendeva a ribaltarsi, e ho utilizzato anche lì una corda vecchia che avevo per coprire la giuntura, anche lì un richiamo alla corda, insomma. Poi quando fanno l'esposizione dei pezzi, io mi accorgo che passo a volte diverse ore a vedere i pezzi degli altri, per capire come l'hanno affrontato, cosa hanno pensato, che soluzioni hanno trovato, anche tecniche per scolpire il legno che hanno trovato. E a volte ci sono delle cose davvero interessanti e geniali, ecco. Per cui un complimento va fatto sicuramente a questi personaggi, insomma ci sono diversi personaggi che anni e anni, che portano sempre alla mostra concorso, e al di là di quello che può essere il risultato, alla valutazione da parte della giuria, continuano ad essere presenti. Insomma, questo credo che sia il vero amore per l'artigianato di tradizione. E quando trovo qualcosa di bello, che hanno fatto gli altri, delle soluzioni interessanti fatte dagli altri, ne sono contento, ecco, perché comunque è il mondo dell'artigianato che ha guadagnato qualche cosa, ecco. Grazie a tutti.